E' stata una bellissima giornata perché abbiamo parlato di proprietà intellettuale, di diritto d'autore, di pirateria in maniera costruttiva, non in maniera ideologica, affermando sostanzialmente un principio di fondo. C'è che la pirateria si combatte in due modi, innanzitutto da un punto di vista legale, quindi difendendo il diritto d'autore e non avendo paura di affermare che va difeso e che essere, come ha detto Rutelli, in apertura di mattinata bisogna poter navigare liberamente nei mari, ma la pirateria è un'altra cosa. Al tempo stesso però l'industria si deve interrogare perché c'è un tema di promozione della stessa, di aggressione al consumatore da un punto di vista marketing, secondo me sul quale possiamo molto migliorare. La nostra industria era strutturalmente abituata ad avere il pubblico che veniva da noi e dovevamo giocarci la partita solo sulla base della scelta che il pubblico avrebbe preso. Oggi invece dobbiamo conquistare l'attenzione del pubblico, per questo ho parlato di aggressività marketing, non certo in un'accezione negativa, ma dicendo che dobbiamo ritrovare un po' di forza e convinzione e questo va affermato e questo ci aiuterà anche a difendere il diritto d'autore. Anche perché oggigiorno si può parlare di pubblico ma anche di pubblici? Il punto è proprio questo, oggi quando parliamo di cinema in realtà non parliamo, se vogliamo parlare di cinema e non di audiovisivo, non solo dell'esperienza in sala, c'è oggi la possibilità di fruire i contenuti è molto variegata per il pubblico. Ma ci dobbiamo ricordare che se uno vede un film o una serie su un iPad è perché è passato da una sala cinematografica, qualora non ci fosse mai passato difficilmente sarebbe arrivato al proprio iPad. Quindi queste esperienze sono perfettamente integrate, devono essere fungibili ma devono esistere tutte quante insieme, quindi è molto importante che l'industria nel suo complesso protegga tutti gli sfruttamenti a partire da quello teatrical. Quindi l'innovazione digitale è amica o nemica dell'audiovisivo? Ma come ho detto prima, noi dobbiamo rendere l'innovazione digitale amica perché se sarà nostra amica ci darà sviluppo e ci darà futuro, qualora invece dovessimo considerarla una nemica, la prospettiva dell'audiovisivo sarebbe molto più debole. Lei è in cantiere una nuova sfida, qual è? Sì, no, io in realtà sono da qualche mese amministratore delegato di Vision Distribution che è la nuova casa di distribuzione molto originale perché per il 60% appartiene a Sky, per il 40% a 5 produttori indipendenti, vuole essere una casa di vetro, un luogo trasparente dove lavorare in sinergia e costruire importanti film italiani e distribuirli in un modo innovativo. Grazie. Grazie. Grazie.